Allo sprint vince il Lecce ma il Biceglie esce a testa alta dalla Coppa Italia di Serie C. Buon allenamento agonistico questo secondo turno per entrambe le squadre anche se alla fine si è imposto chi ha sbagliato meno. Il primo vero tiro nello specchio della porta lo firma Pacilli con Vassallo che le spinge di pugno. La prima vera occasione con annesso errore la potrebbe concretizzare il Biceglie sul fallo in aria di rigore ai danni di Azzi. Dal dischetto però la conclusione di Gabrielloni è molle e prevedibile con Chironi che fa un figurone nel bloccarla. Ancora Gabrielloni sciupa la palla del possibile vantaggio mandando alto sulla traversa da 0 metri. Poi è Lugo Martinez ad aprire le occasioni della ripresa con una punizione insidiosa ma poco precisa. Vassallo si distende per deviare la conclusione di Pacilli. Poi il portiere Bicegliese sale in cattedra sul calcio di rigore che costa il Rosso a Migliavacca e manda dal dischetto Torromino. Il pareggio sembra scritto ed invece Azzi la sblocca di testa sul cross di Giron. La reazione del Lecce si materializza con il secondo calcio di rigore e questa volta per fallo su di piazza dagli 11 metri. Non sbaglia Mancosu. La gara si vivacizza con il Biceglie in inferiorità numerica ma comunque pungente con Lugo Martinez su punizione. Vassallo fa buona guardia sul diagonale di Zonev ma non può nulla sul tocco ravvicinato di Bubicas che raccoglie un cross di Torromino. Ci prova il Biceglie a reaguentare il pari con il colpo di testa ravvicinato di Petta. Va vicino al terzo gol in Lecce con il contropiede di Di Piazza chiuso da Vassallo. Salentini che avanzano in Coppa. Biceglie che si prende l'onore delle armi.